Olms, si può sapere come diamine ti sei vestito stamattina? Ma cosa vuoi stupida bibi? Questo è lo stile, la freschezza, la bitch, gang! Cosa? Che cosa stai facendo con questo marchigegno? Tranquillo Soso, ho trovato uno che si usare benissimo e compiuto. Allora bro, hai trovato un modo per hackerare il profilo di Jayden? Aspetta che non mi ricordo bene, cerco su Google come si fa. Allora bro, come funziona qua la storia? Guarda, è semplicissimo, ho anche trovato un link che sembra interessante. Apriamolo. Uno, due, tre, prova? Prova? Ah, guarda cosa mi tocca fare. Dai, iniziamo. Nome. Stefano. Salvatore. Sascha. Giuseppe. Cognome. Lepri. Cinque grana. Burci. Greco. Soprannome. Stepni. Surri. Pezzo di manzo, ma su YouTube mi conoscono come anima. Vegas. Scusa, sbaglio o ti chiamano anche papà? Purtroppo sì. Età? 24. Ho 21 anni. Non si dice come le ragazze, te lo dico solo a te, 29. Cosa fai nella tua vita? Ho iniziato a caricare video su YouTube nel 2010, quindi circa otto anni fa. Adesso si può dire che a tutti gli effetti sono un intrattenitore. Sono partito facendo video su YouTube e ora faccio tante cose parallele al mondo dell'intrattenimento. Miglioro, perché voglio una bella vita e quindi per avere una bella vita bisogna migliorarsi sempre. Ho studiato, poi ho fermato gli studi, ho iniziato a fare lo YouTuber e penso adesso di essere un creativo. In una scatola di pastelli che colore saresti? Ovviamente il rosso. Il giallo. È il mio colore preferito. Sicuramente l'arancione. Mi è stato dato il verde e mi sono anche comunque affezionato. Dico il blu perché sennò tutti dicono che vesto sempre di nero. Chi è il più? Casinista. Sascha. Sono abbastanza geloso, voglio detenere il primato, quindi io. Coraggioso. Dipende, però forse io. Sascha. Io. Sascha. Raga, ma siamo sicuri di voglierlo fare? Assolutamente no. Infatti, mi preoccupa un po', sinceramente. Ma in tutto ciò, dov'è Jayden? Beh. Eh, sei stato esaustivo. Continuiamo. Allora, chi è il più? Presuntuoso. Cosa vuol dire? Dipende, forse io. Giuseppe. Io. Distratto. Sascha. Probabilmente Stefano. Sicuramente Stefano. Io. Bella sfida tra Sascha e Stefano. Giuseppe. Jayden, sono pronto per l'allenamento di oggi. Mi raccomando, tieni il tempo. Allora? Vabbè, lo rifaccio, dai. Va bene tutto, però anche se non mi interrompi, eh. Chi è il più? Ritardatario. Stefano. Ce la giochiamo io e Sascha. Tutti pensano sia Sascha. Sto facendo il mio meglio, ultimamente. Io. Permaloso. Ce la giochiamo io e Sascha. 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 Ok, ho preso permesso. Io. Stiloso. Penso sinceramente di essere io. Troppo scontato dire io, eh. Surri. Io. Ovviamente Jayden. Surri, non c'è neanche da dirlo. Stefano. Nessuno. Stefano. Chi è che prende le decisioni? Le decisioni le prende tutte Papa Vegas, che è il nucleo della famiglia. Diciamo che siamo in democrazia, però il leader è Giuseppe. Papone. Io perché se le prendesse qualcun altro non so che succederebbe. Chi è il più colto? Direi sempre Papa Vegas. Surri fa il finto colto. Papone. Penso io. Non lo so sinceramente, non abbiamo mai fatto un test. Allora, facciamo un piccolo test. Perfetto. La capitale dell'Olanda. Amsterdam. La capitale del Burkina Faso. Azerbaijan. Passo. Ma che cavolo di domanda è? Io a venire da mamma Africa, come non sapere Burkina Faso? Mio fratello chi è, sai? Nigeria. Il presidente della Repubblica Francese. Macron. Sarkozy. Griezmann. In che anno è finita la guerra fredda? 1381. 1989. Quando si è scongelato il frigo. Me lo ricordo solo perché dovrebbe essere la mia data di nascita. 89. 90. Nomina cinque affluenti del Po. Sile. Adige. Il Po è così importante come fiume che non ha bisogno di sapere nient'altro. Non lo so, ma non so neanche dove sta il Po. Il signor Rocco ha quattro figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli ha in totale? 8. 5. Questa domanda l'avete fatta appositamente per Sasha, eh? Comunque 5. Si parla di Rocco, mi sa che sono più di 4 figli. Vabbè, cambiamo discorso che è meglio. Videogioco preferito. Fortnite. Minecraft. Gears of War. Dobbiamo ricordare gli albori tipo Super Mario del Super Nintendo. 2. Dai Su ricchi oggi, facciamo la prima vittoria reale, ammazziamo sti due e poi andiamo a Pinato... ... ma se no amore adesso non posso scusami. Amore non posso, però posso stare con me fra Sergio. Faccio... Dai, domani sera. No, oggi. Fatti un treppone, dai, domani mi toglievi un po' Surry, non so se ti rendi conto, stai sparando al nostro portino Io non so che dire, stai veramente schifo a giocare, non mi sto scherzando Ma amore, oggi devo finire la partita, mi spiace, non posso dire Amore, la mutandina nuova per te guarda Eh no, lo sai, quando gioco non mi devi toccare, dai, vai di là Bravo, questa kill mi piace Aia Surry, non davanti la pace a rumore, pare a costruire, ok? Attenzione dietro, raga Amore, cosa stai facendo? No, sono stanco, dai, lasciami stare Hai mai detto che stasera stavamo insieme? No, stasera, domani, domani, c'ho le mie cose, lasciami in pace, vai via Che palle Dai ragazzi, sapete che non so giocare? Non è il mio gioco, forza Ma tu, ma che hai fatto? Ma sei scemo, levati Madonna, sei scemo Ma che mi ha letto, vai via Ti piacciono i videogiochi, eh? Pro e contro Matrimoni gay Pro tutta la vita Pro Salato con il dolce Assolutamente sì Pro, contro Risvoltini Ci sta Dipende da cosa indossi Pro, contro Pro senza esagerare Ma qua in casa non entra più in Italia Ananas sulla pizza Assolutamente no Anche se non posso mangiare la pizza però L'ho mangiata quindi però Mangio di peggio, quindi va bene Contro, sono napoletano, vi prego Allora, visto che ci siamo Dimmi qual è il tuo cibo preferito? La bella bistecca, la fiorentina alta Sette centimetri Al sangue Con le patatine fritte La pasta In tutte le salse Però quella di Tudor Ha un posto speciale nel mio cuore A me va bene tutto L'importante è che non lo cucino in sabrina Il gatto di patate che mi faceva mia mamma quando ero piccolo Ma scusi io sono nel posto giusto Devo consegnare queste pizze Ma sono tutte per lei Non ci si crede Ma non ci si crede Braccino Sei stato generoso eh Hai tatuaggi? No Sì ne ho uno Questo qua È una data Di una cosa importante che mi è successa Però non ti dico di cosa Uno è qua sul braccio Amori dell'amicizia Uno dovrebbe essere qua È tipo Joker E poi se non mi ammazzo C'è un terzo Che è qua Dovebbe essere una lucertola Geko Sei fidanzato? No Domanda da un milione di dollari Me lo chiedono ormai sotto le foto Sotto i video Per strada Ormai dopo una relazione di tre anni e mezzo Sono attualmente single E disponibile per tutte quante Con Sabrina Da tre anni Ti amo tanto Però il figlio Un po' più avanti eh Ho chiuso una relazione di sei anni L'anno scorso Speriamo che non ci veda nessuno No vabbè C'è un'anno Incredibile No vabbè No No direttore un attimo È urgentissimo È urgentissimo perché abbiamo le fotografie È inutile che quest'estate Perdiamo tempo E inseguiamo I vari Pieri Borriello Bener Rodriguez Perché ripeto C'ho le foto qui davanti Abbiamo lo scoop E Jaden Ma cavolo È lo scoop dell'estate Fumi? No Ti sei mai fatto una canna? Dai mai puoi dirlo Jaden Jaden Ma che cavolo stai combinando? Eh Pensavo fosse un tossico Guarda che occhiaie che c'ha Cambiamo argomento Questo o quello Mare o montagna? Mare Montagna Vasca o doccia? Doccia È più comodo Giorno o notte? Notte dai TV o web? Assolutamente web Quanto a cento volte E ti pareva? Trump o King Jong-un? Jaden Mentre ti calmi parlo un momento con i tuoi soci Come vi siete conosciuti? Diciamo che ci conoscevamo tutti quanti sul web Ma tutto è iniziato a Napoli nel 2014 Quando ho incontrato Giuseppe Abbiamo iniziato a lavorare insieme Abbiamo fatto per un po' di tempo delle streaming su Twitch Ho iniziato a insegnare a Stefano il mio modo di lavorare E poi col tempo è arrivato anche Surry Poi insieme si è formato una sorta di trio specializzato in Minecraft E durante il 2015 ho iniziato a lavorare anche con Sascha Ci siamo trovati bene tutti insieme E dal primo giugno 2015 è iniziata l'avventura Mates Cosa significa per te Mates? Mates significa raggiungere un obiettivo tutti quanti insieme Mates ormai è la mia famiglia Amicizia, divertimento e voglia di fare sempre di più Un gruppo di amici che hanno fatto della propria passione un lavoro Qual è l'esperienza più bella che avete vissuto insieme? Direi in genere tutti i viaggi che abbiamo fatto Lavorare a tanti progetti ci ha fatto maturare Ci ha insegnato tantissime cose E spero che continueremo in questa direzione Come ti vedi insieme agli altri tra dieci anni? Allora Giuseppe lo vedo su uno yacht in mezzo al mare A fare una traversata oceanica Surry pelato a spendere i soldi in orologi Sascha in mezzo a 500 bambini in casa Che Sabrina sfornerà E il sottoscritto, boh, chi lo sa Spero ancora insieme e tutti amici Ah già, c'è anche il panda Beh, lui avrà già conquistato il mondo Non avrà problemi Il momento più brutto della tua vita Fortunatamente ho avuto una vita abbastanza tranquilla Quindi mi ritengo particolarmente fortunato in questo Vale lo stesso che ha detto Stefano per me Quando si sono separati i miei genitori Purtroppo quando a 13 anni ho scoperto di avere una malattia Che mi sarei portato con me per tutta la vita Il momento più bello della tua vita Quando dopo tre anni ho imparato a razionalizzare la cosa Ho imparato a vivere e ad affrontare le cose in modo diverso Ce ne sono stati molti Però se dobbiamo dirne uno Ultimamente sono stato in Africa ed è stato veramente un bel momento Diciamo che di base mi ritengo molto fortunato e molto ottimista Quindi non ho un momento proprio più bello in assoluto Può sembrare assurdo ma nel momento in cui ho dato la maturità e ho preso il diploma Mi sono sentito come se qualcuno mi concedesse la mia vita in mano E potessi fare da quel momento tutto ciò che volevo E dipendeva solamente da me Hai mai pensato al suicidio? Il vero suicidio è già sapere che la vita è corta Quindi bisogna godersela appieno Tutti pensano in qualche modo al suicidio anche solo come cosa, come concetto Però no, se ho mai pensato di commettere suicidio no Purtroppo in quei tre anni che vi ho raccontato prima sì Però penso che sia una cosa da vigliacchi Assolutamente no Se avete dei problemi al riguardo Parlatene con i vostri genitori e sicuramente vi aiuteranno Cosa consigli a chi vuole seguire la vostra strada? Tanta passione e tanta costanza Cercate di essere sempre voi stessi Date il 110% delle vostre possibilità E siate costanti e determinati Di non essere banale Poniti un obiettivo raggiungibile E fai di tutto per raggiungerlo Fai un urlo No! Ma buono ragazzi aspettate che voglio anche sentire la voce di JD Mi fate una faccia triste? Una faccia felice? Una smorfia? JD Sei veramente simpatica ed espressivo Te l'ha mai detto nessuno In una gara di velocità Chi vincerebbe? Assolutamente io Ah io? Vraimenti io Io Sicuro No credimi questa non me l'aspettavo. Il tuo film preferito? Inception. The Wolf of Wall Street. La mia vita. L'ultimo Samurai. Una frase o una citazione che non ti dimenticherai mai? Essere pazzi significa essere guariti, che è lo slogan del canale da sempre. Memento mori, me lo voglio anche tatuare e significa ricordati che devi morire. Fatti il culo e ce la fai. Cheat papa preghi. Trova la tua strada e percorri l'assenza di impianti. Qual è la prima cosa che noti nell'altro sesso? Diciamo che ho un po' di tempo che non posso guardarlo l'altro sesso. Le mani, il viso in generale, i denti. Raga ma veramente ha dei tuoi occhi? Bugiardo! Buone! Sai che quando vuoi ti sai spiegare proprio bene? Perché questo video è diverso dagli altri? Perché penso che nel 2018 ognuno di noi si debba impegnare per fare qualcosa di diverso, fatto meglio, con più qualità, con un senso maggiore. Perché non avete mai visto un panda che fa un'intervista? Perché siamo i mates. Perché non avevo mai visto un panda buttarsi da un ponte. Saluto a tutte le persone che sono arrivate fino alla fine del video. Ciao! Grazie mille per essere arrivati anche oggi in fondo a questo video speciale. E quest'anno spacchiamo tutto. E mi raccomando, il terzo video della trilogia, il terzo video di Jaden uscirà il... Per concludere, datevi un consiglio a vicenda. Surry, secondo me dovresti migliorare un pochino il tuo lato umano. Apriti un po' di più con noi. Sascha, tu dovresti prendere le cose con un po' più di leggerezza, ecco, in generale. Dormi di più, che fa bene e te lo meriti. JD, penso che hai capito che per far parte di mates bisogna impegnarsi e quindi muoviti e cerca di realizzare i tuoi sogni. No, fermi tutti. Jaden, non mi hai ancora detto che cosa fai nella tua vita. Sì, non mi hai ancora detto che cosa fai nella tua vita.